ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora oggi sono in una concessionaria ag motors per mostrarvi in anteprima qualche modello di scooter di moda elettrica farò un video un po così alla veloce dove vi farò vedere qualche dettaglio in più sulla tecnologia questo è uno dei brand che oggi andremo a vedere poi c'è la 00 motociclet che sono delle moto americane però molto più diciamo grandi e grosse in potenza grazie a tutti grazie a tutti questa ragazzi è una batteria un pacco batterie per il new 48 volt 32 ampere ora è piccolina compatta questa la puoi portare anche a casa la stacchi dallo scuderino ed è pronta diciamo ad essere trasportata da qui presa di ricarica eccola qui attacchi il connettore e vai a ricaricarla in maniera diciamo semplice e veloce anche questa sempre lidio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti